Aspetti solo un attimo, l'ansfisa di cui parla Morra viene lanciata da Toninelli nel luglio di un anno fa, luglio 2018. Quindi passato nel frattempo un anno e mezzo, lo stesso senatore Morra che persona per bene dice attenzione stiamo ancora aspettando che si metta in piedi sostanzialmente l'organismo, solo che così dove andiamo? Ha fatto bene lei a ricordare le date, io me lo ricordo perché ero in questo studio due stati fa a raccontare il crollo del ponte Morandi. Non accuso nessuno, le buone intenzioni del governo anche passato e del ministro Toninelli in questo caso non le voglio mettere, non c'è alcuna ironia, sul banco degli imputati perché l'intenzione di dire, la faccio semplice, a fronte di quella sciagura creiamo un'autority, perché di questo si tratta, indipendente, che va a monitorare le infrastrutture che sono date in concessione o che sono ancora nelle mani dello Stato, perché come ben sappiamo ci sono da una parte, e oltre che le ferrovie, ci sono da una parte alcune strade che sono gestite da ANAS, che quindi è totalmente pubblica e quant'altro. L'intenzione è buona, ma secondo me la follia di voler creare un'autority quando già all'interno del ministero dei trasporti esisteva ed esiste una commissione di tecnici che bastava semplicemente rimotivare, potenziare, aggiungere altri elementi che infatti completano questo pull operativo, ci avrebbe portato in avanti, non evitato probabilmente questo perché nessuno di noi ha la palla di metodi il dire sì, tragedia che si poteva evitare, sì, probabilmente molte cose si potevano evitare, alcune sì, però su questo lasciamo il beneficio del dubbio, come dire. Diciamo, perché non è stata potenziale, è stata creata un'altra autority con altri costi, un'altra sede, noi siamo bravissimi nel creare dopo l'emergenza, perché ti ripeto, due stagli fa... Una struttura che poi deve sovraintendere a tutto, dove ci sono le resistenze e le strutture precedenti, le difficoltà a mettere in piedi... Tu avevi già presso il ministero delle infrastrutture... E potevi rafforzare quello. Una struttura che dovevi rafforzare... Gli stessi tecnici dicevano non ci fanno lavorare. No, 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 non ci fanno lavorare.